Musica Nella zona industriale di Oristano, giustamente, non vedono l'ora di fare incetta di insediamenti e nel consorzio, organo che gestisce l'intera platea produttiva, con la gestione delle aziende insediate, l'interesse si era prima allungato verso i rifiuti, con Bao Cravoni prima e Masangiones poi, intuendo che questa era la strada del nuovo business e quindi dei guadagni. L'attenzione era stata riposta anche allo smaltimento delle acque, con l'impianto che dovrebbe essere tuttora funzionante. Era anche quella la fase delle paleoliche, ne è stata installata una che funziona a intermittenza. Ma il consorzio non disdegna neppure l'affondo nel settore dei lavori pubblici, in particolare di quelli stradali, ed è recente la polemica su una esagerata rotonda che sulla strada, che collega Oristano con Santa Giusta, nell'area di smistamento del traffico verso una mezza dozzina di grandi centri commerciali e della stessa zona portuale, polemica che pare al momento sopita per una ritrovata intesa sulla dimensione tecnica dell'intervento. Ma gli interessi vanno anche nella direzione dei gasificatori nel porto, ne sono ipotizzati tre, uno dei quali già realizzato e stando alle ultime valutazioni sarebbe più che sufficiente alle esigenze dei futuri consumi dell'isola. L'offerta informativa del Comune di Oristano si arricchisce di un nuovo canale. Si tratta del canale in forma impresa, promosso dall'assessorato alle attività produttive. La conoscenza è essenziale in ogni settore della società, ha spiegato l'assessore Rossana Fozzi. Lo è anche e soprattutto per chi fa impresa ad ogni livello, per le realtà produttive e per i professionisti. L'amministrazione comunale con l'attivazione del nuovo servizio vuole offrire un contributo di conoscenza a chi opera nel sistema produttivo, affiancando le imprese, soprattutto medie, piccole e micro, con un influsso informativo dedicato, semplice, trasparente e immediato. Il servizio parte a titolo sperimentale, ma nei prossimi mesi verrà potenziato attraverso nuovi strumenti capaci di mettere a frutto il patrimonio di conoscenza che si creerà. Potranno essere sottoscritti protocolli di intesa e forme di collaborazione interistituzionale con l'obiettivo di fondo di fare rette e sfruttare ogni opportunità disponibile per sostenere lo sforzo dei nostri imprenditori. Oggi, più che mai, stare a fianco al mondo dell'impresa e del lavoro è fondamentale per garantire il rilancio del Paese, ha osservato il Sindaco Massimiliano Sanna. È online, nelle pagine dell'ASPAL, l'avviso tirocini formativi e garanzia giovani, che consentirà a tantissimi ragazzi sardi di fare un'esperienza nelle aziende e a queste ultime di formare nuovo personale. È possibile da subito fare gli abbinamenti tirocinanti imprese, e lo sarà fino al 22 agosto. Poi, da quel momento, si potranno presentare i progetti fino al 10 ottobre. I primi tirocini potranno partire dal 1 ottobre prossimo, mentre un secondo gruppo di tirocini il primo novembre. A disposizione ci sono oltre 8 milioni di euro, sufficienti per progetti di tirocinio a favore di 2.150 ragazzi, tra i 18 e i 29 anni, che non studiano e non lavorano, e tra questi anche 200 ragazzi in condizione di svantaggio. Tutti i tirocini avranno una durata di sei mesi. L'indennità, totalmente a carico pubblico, è pari a 450 euro mensili lordi, che sale a 650 euro per i ragazzi svantaggiati. Il soggetto ospitante ha la possibilità, qualora volesse, di integrare l'indennità di partecipazione. Sono richiesti requisiti specifici sia per i tirocinanti che per i soggetti ospitanti. Per i ragazzi, tra le altre cose, è richiesta la residenza in Italia e il domicilio in Sardegna. Essere privi di impiego, sia subordinato che autonomo, non essere inseriti in nessun corso di studio o di formazione, né iscritti in altri percorsi di tirocinio, né essere titolari di altre misure di politica attiva. Nel bando sono descritti inoltre tutti i requisiti che devono avere i soggetti ospitanti. Tra questi, avere almeno una sede operativa nell'isola, non avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio, non trovarsi in situazioni di fallimento o insolvenza. La procedura è a sportello, per cui le risorse saranno assegnate fino all'esorimento in base all'ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento per il programma dell'evento Sartiglia, così come da sempre impostato, e di come la manifestazione si svolge, nelle valutazioni del Ministero alla Cultura, ha ottenuto il primo riconoscimento, superando come noto i carnevali di Viareggio, Ivrea, Venezia e altri, con la Sardegna che entra in quota anche con gli eventi equestri, come l'Ardia di Sedilo e Sagarrella di Sant'Ulusurgio. Questo ha conferma che l'isola è una terra di cavalli e cavalieri che da secoli consente lo svolgimento di eventi cavallereschi dai profondi caratteri identitari, espressioni di costumi radicati che nel loro svolgersi sono ispirati alla sacralità, come nella vestizione del capocorsa della Sartiglia o della spericolata bravura nelle corse delle pariglie dell'Ardia Sagarrella. Riconoscimento che conferma, come si è detto, il valore identitario della giostra di Oristano, nutrita com'è da un insieme di elementi che la connotano, e tra questi il ruolo dei protagonisti, gremi e cavalieri, ai quali ancora è negato il diritto di avere delle scuderie in regola. Il litorale di Cavras ora è accessibile anche ai disabili. Il progetto appena avviato si aggiunge a quello già attivo a mare morto che consente alle persone con disabilità di accedere alle imbarcazioni grazie al sollevatore a bandiere installato presso il terminale del molo galleggiante. Finalmente abbiamo centrato un altro importante obiettivo, ha dichiarato il sindaco Andrea Abis. L'area di San Giovanni è servita da quattro stalli auto riservati ai disabili, ben visibili, posizionati a ridosso della passerella che partendo dall'area parcheggio arriva fino al mare. Lungo la passerella, che nella parte iniziale è dotata di una corda su ambo i lati per agevolare la percorrenza, è presente una sede a job e sono state realizzate tre piattaforme laterali, ognuna dotata di un ombrellone sulle quali si può comodamente trascorrere la giornata. Sono stati installati anche dei nuovi servizi igienici pensati per un uso esclusivo da parte del disabile. Abbiamo creato un vero e proprio lido dedicato che è di supporto sia a chi è costretto sulla carrozzina, sia ai loro accompagnatori. L'area infatti, essendo dotata di una sede a job, agevola l'attività dei familiari, evitando che debbano fare grandi sforzi per aiutare il disabile a raggiungere la battigia. La sedia è sempre a disposizione, permette uno spostamento in sicurezza anche verso l'area servizi, ha spiegato Massimo Marras, direttore dell'area marina protetta penisola del Sinis, isola dei mal di ventre. Il servizio è attivo tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 19. I giovani del servizio civile che operano nella riserva marina si occuperanno del montaggio e del ritiro quotidiano degli ombrelloni. La Giunta, approvando gli indirizzi operativi della misura prevista dalla legge di stabilità e su proposta dell'assessore della programmazione bilancio Giuseppe Fasolino, ha deciso di sostenere, con 15 milioni di euro in favore dello sviluppo locale, le unioni dei comuni nella chiusura dei vecchi programmi di spesa attraverso figure specialistiche che interverranno anche a sostegno della nuova programmazione, compresa la fase di progettazione. A breve verranno quindi attivate le convenzioni con i gruppi di azione locale, le università e altri enti pubblici per mettere a disposizione figure professionali specialistiche capaci appunto di snellire le procedure ed essere valido supporto ai comuni nelle fasi amministrative e progettuali più delicate. Ascolto continuo e dialogo costante con i territori hanno rappresentato la chiave per trovare quella spinta necessaria a superare gli ostacoli, con l'obiettivo di incidere sullo sviluppo futuro della Sardegna, consapevoli che solo attraverso un'efficace strategia di accompagnamento verso la ripresa, possiamo combattere mari atavici quali lo spopolamento e l'isolamento dei territori. Ha spiegato il presidente della regione, Cristian Solinas. Sono stati ufficializzati ieri, mercoledì 3 agosto, in nome degli atleti che prenderanno parte alla seconda edizione dei campionati europei, in programma dall'11 al 21 agosto a Monaco di Baviera. Tra i convocati anche gli oristanesi Stefano Oppo, canuista, e Lorenzo Patta, velocista nella staffetta 4%. Stefano Oppo tornerà in acqua a un mese dall'argento conquistato nella Coppa del Mondo di Lucerna lo scorso luglio. Prenderà parte dall'11 al 14 agosto nella categoria del doppio pesi leggeri insieme al compagno Pietro Rutta nell'impianto di regata di Oberschleisheim. Lorenzo Patta a quattro settimane dalla delusione dei mondiali in Oregon correrà venerdì 19 luglio nella batteria della staffetta 4%, che intanto ritrova maggiori certezze con il rientro dell'infortunio di Marcel Jacobs oltre alla conferma di Torto e De Zalu. La finale si terrà domenica 21 agosto. Le gare si correranno nell'Olympian Stadium di Monaco in pianto costruito per le Olimpiadi del 1972. I carabinieri della compagnia di Ghilarza hanno denunciato un professionista originario di Urune che nel pomeriggio di ieri 3 agosto ha imboccato contro mano la strada statale 131. L'intervento dei militari ha consentito il rintraccio tempestivo del mezzo all'altezza di Sant'Ignazio di Norbello scongiurando che si verificassero incidenti su quel tratto di strada a causa della manovra maldestra. I carabinieri hanno provveduto a far eseguire l'alcol test all'uomo che è risultato positivo oltre i limiti di legge. Conseguenze ritiro della patente di guida e la denuncia alla procura della Repubblica di Oristano. L'assessorato regionale del lavoro ha pubblicato l'elenco delle ammesse in via provvisoria relativamente all'avviso pubblico a Sportello per la concessione di voucher di conciliazione a favore di donne imprenditrici lavoratrici autonome libere professioniste. La giunta regionale con una delibera proposta dall'assessore regionale dell'agricoltura Gabriella Murcia di concerto con l'assessore del turismo Gianni Chessa ha approvato le direttive di attuazione per la disciplina dell'enoturismo in Sardegna secondo quanto disposta la legge regionale 12 del 2021. Un provvedimento importante per valorizzare le produzioni vitivinicole del territorio qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica integrata e promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità. L'assessorato regionale della programmazione ha approvato le disposizioni per la rendicontazione della spesa a valere sul bando azioni di sostegno alla competitività delle medie e piccole imprese per ampliare a modernare o diversificare le attività nei sitori della ricettività ristorazione servizi per il turismo la cultura e l'ambiente. Grazie a tutti.